Il primo punto, lui si augura di una lunga serie, visti i risultati delle rivali dirette, un punto utilissimo anche se la classifica non è certo migliorata, ma poco importa, ciò che conta adesso è la crescita della squadra, il nuovo tecnico sta lavorando su diversi aspetti, quello temperamentale, quello tecnico, quello tattico e i miglioramenti lentamente si vedono, soprattutto nel tenere la squadra corta, nel pressing alto e nel tentativo di velocizzare, tutte cose ancora per la verità allo stato embrionale, ma si può essere ottimisti, Simeone ha confermato che vuole due punte, ieri Morimoto ha supportato Maxi Lopez perché non c'era ancora il transfer di Bergessio, ha provato con successo Lodi a dirigere il traffico, ha sopperito alle otto assenze con riserve purtroppo non tutte all'altezza, ma sa che riavrà i migliori, prima o poi. La squadra ha capito il messaggio che vogliamo essere una squadra corta, quando riusciamo a avere la palla sicuramente siamo più comodi e se no evidentemente puoi soffrire, con questa testa e con il gioco che si comincia a vedere la squadra comincerà a salire. Domenica altro duro ostacolo, si va a Bologna a ora di pranzo, debutterà Bergessio come a Cesena bisogna giocare per B. Un'ultima squadra, specialmente quando giochiamo con la palla bassa, siamo molto imprevedibili, secondo me mettiamo molto in difficoltà gli avversari. Maxi Lopez, autore del gol, ha già la mente rivolta al prossimo turno. Domenica Catania ancora in trasferta, Bologna in campo alle 12.30. Se vogliamo vincere a Bologna non si può commettere nessun errore. Penso che è una partita dura perché loro stanno bene e dobbiamo stare al 100% per ritrovare per ritrovare i tre punti lì. Sicuramente c'è qualcosa da migliorare e si deve lavorare settimana perché abbiamo altre due sfide importanti, Bologna e Lecce. Importante nella classifica, volevamo i tre punti, però sappiamo che abbiamo migliorato, possiamo migliorare tanto ancora.